Ritardi, file interminabili, prenotazioni e incertezze varie nel servizio di fornitura della carta d'identità digitale al Comune di Agrigento. Adesso il servizio è online. Ascoltiamo in proposito l'assessore comunale Gabriella Battaglia, al microfono di Gloria Scafè. Dal 3 settembre verrà istituita la prenotazione online per le carte d'identità, per il documento d'identità. Quali sono i vantaggi di questo nuovo sistema? Il nuovo sistema consentirà di potersi prenotare per avere la carta d'identità elettronica, in maniera tale da evitare le code e le disfunzioni che abbiamo avuto in questo periodo. Dobbiamo ricordare che il servizio sarà attivo dal 3 settembre, contemporaneamente verrà attivato anche un servizio di call center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 12. e il cittadino potrà chiedere tutte le informazioni utili per effettuare la registrazione online. Chi avesse invece la necessità di dover partire o di un ricovero ospedaliero immediato, per cui non ha la possibilità di rinnovare la carta d'identità elettronica e quindi deve rifare la cartacea, allora in quei casi si può recare direttamente presso gli uffici e richiedere la carta d'identità dimostrando naturalmente l'emergenza. Quindi il tutto avverrà ormai dal 3 settembre, ripeto, con prenotazione online. Non sarà possibile accedere in altra maniera per ottenere la carta d'identità elettronica. Ci sono delle guide che aiuteranno i cittadini per procedere con la prenotazione online? Sì, oltre al numero col center già indicato, in questi giorni la città verrà tapezzata di manifesti dove proprio si indicherà come è possibile fare la prenotazione online. Quindi verrà indicato passo passo tutti i vari passaggi che devono essere fatti per accedere al sito del Ministero e quindi prenotarsi per avere la carta d'identità elettronica.